Gesù e Maria State per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni a voi non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine che protegga amici carissimi siamo di nuovo insieme per una nuova puntata del catechismo romano del concilio di trento siamo giunti alla puntata numero 31 e oggi con l'aiuto del signore cominciamo a studiare se si può dire questo termine o se si preferisce ad approfondire o a rinvigorire la nostra formazione sul sacramento della cresima un sacramento molto importante uno dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana insieme al battesimo all'Eucharistia e qui è subito interessante notare che il catechismo romano tratta la cresima subito dopo il battesimo non battesimo, eucaristia e cresima ma battesimo, eucaristia leggendo capiremo il perché come di consueto non vorrei esagerare con le note introduttorie per passare direttamente alla lettura anche questo sacramento è abbastanza articolato però se non riusciamo a completarlo questa sera credo che al massimo in un paio di puntate salvo poi dove essere smentito da qualche eventuale imprevisto di percorso dovremmo riuscire ad affrontare questo sacramento allora numero 194 anzitutto il nome di questo sacramento se fu sempre doverosa cura dei pastori spiegare il sacramento della confermazione oggi lo è più che mai molti nella Santa Chiesa lo trascurano pochissimi si sforzano di ricavarne come dovrebbero il frutto verace della grazia divina i fedeli perciò dovranno essere istruiti intorno alla natura, all'efficacia, alla nobiltà di questo sacramento sia nel giorno della Pentecoste specialmente designato per la sua amministrazione sia in altri giorni che i pastori appariranno adatti occorre che i fedeli apprendano come la cresima non solo non deve essere trascurata ma ricevuta con devozione e pietà religiosa affinché per loro colpa e per loro grande disgrazia lo straordinario beneficio divino non sia conferito loro in vano cominciamo dal nome la Chiesa ha chiamato confermazione questo sacramento per il motivo seguente quando il battezzato è unto dal vescovo con il sacro crisma e vengono pronunciate le solenni parole io ti segno con il segno della croce e ti confermo con il crisma della salvezza il nome del Padre, del Signore e dello Spirito Santo se nulla impedisce l'efficacia operativa del sacramento il battezzato acquista il vigore di una nuova virtù e comincia a essere perfetto soldato di Gesù Cristo allora già da queste note introduttorie comprendiamo alcune note caratteristiche numero uno la trascuratezza del sacramento della cresima fortuna che sto catechismo ha quasi quasi 500 anni 400 sicuri perché se no sembrerebbe scritto l'altro ieri perché la trascuratezza del sacramento della cresima oggi sono tutti trascurati i sacramenti ma la percentuale di persone che non ricevono il sacramento della cresima quindi arrivano ad essere adulti senza questo sacramento è in continua crescita esponenziale non solo pochissimi si sforzano di ricavarne il verace frutto di grazia e se non dicevano questo sacramento con deviazione e pietà per loro colpa e per grande disgrazia lo straordinario beneficio sarà conferito loro in vano e qui mi permetto di aprire una piccola parentesi perché amici guardate io continuo a notare molto diffusa una concezione magica non solo dei sacramenti ma perfino della fede divina e cattolica allora i sacramenti è vero che operano ex opere operato come si dice cioè contengono una grazia intrinseca legata all'azione sacramentale stessa che di per sé è completamente indipendente da noi per esempio nell'eucaristia il sacerdote consagra appunto e basta appena pronuncia le parole della consagrazione fine quindi cioè il pane diventa corpo di Cristo il sangue diventa sangue di Cristo se il vescovo ti amministra il sacramento dell'agresima oggi la formula chi è pratico è leggermente mutata rispetto a questa fermo ovviamente restando la sostanza perché differenza l'agresima differenza gli altri sacramenti come il battesimo e l'eucaristia stessa noi non abbiamo le parole della formula sacramentale pronunciate da nostro Signore Gesù Cristo per esempio nel battesimo si dice di battezzare il nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo perché perché Gesù ha detto andate in tutto il mondo a annunciare il Vangelo ad ogni creatura battezzandoli nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo Gesù ha detto questo fine del discorso ok l'eucaristia questo è il mio corpo questo è il mio sangue Gesù ha detto questo finito ok però per gli altri sacramenti per gli altri sacramenti le formule sono state diciamo così individuati gli sacramenti sono stati istituiti da Cristo ma le formule non ci vengono direttamente dalle parole stesse di Cristo per cui la formula deve essere precisa nel senso che deve descrivere intrinsecamente quello che sarà l'effetto prodotto dal sacramento perché si unisce la parola al segno e si ha il sacramento che è un segno efficace di grazia però possono esserci delle come dire capite delle dei non eccessivi e come dire rigorismi assoluti in ordine ai termini questo per fare un pochino di chiarezza però domanda le faccio spesso queste domande per stimolare la riflessione amici miei allora come mai che molti cresimati di quei pochi che oggi ci arrivano oggi il giorno dopo la cresima spariscono dalla circolazione sono due le cose o il sacramento è una pagliacciata perdonatemi il termine cioè quindi non è vero che il sacramento funziona perché se se ne vanno oppure c'è qualcosa che non va dalla parte del destinatario quindi il sacramento opera ex opera operato sì purché però trovi un ambiente adatto per essere ricevuto qui ce lo dice qual è ricevuta con devozione e pietà religiosa ma se tu arrivi alla cresima che già stai come dire tramando che a lei ci siamo arrivati ma finalmente i miei genitori mi hanno costretti a arrivare fino a qui adesso finirà pure questa messa no dai quanto dura due ore dai facciamo st'ultima cosa e poi tanto arrivederci e grazie ma capite così come si fa un altro esempio possibile che una persona che si fa la comunione per esempio tutti i giorni non diventa santa e riceve il santo dei santi tutti i giorni non funziona facciamo un altro esempio questo anche quanto come mai che un prete che si alza a fare l'omelia a volte può dire qualche sfrondone speriamo poco ma come mai non funziona l'ordine sacro non è stato ordinato ci sono allora anche in questo caso quando un prete parla l'ho spiegato tantissime volte lui può parlare sotto l'ispirazione dello spirito santo a condizione che primo stia in grazia di dio uno secondo che abbia una preparazione remota e prossima per predicare come dio comanda terzo che abbia la volontà ferma quando esercita il ministero di annunziare solo ciò che Gesù Cristo ha rivelato e che la santa chiesa ci propone a credere punto altrimenti se non ci sono queste tre cose non va e non va neanche se parla un vescovo adesso non parliamo male del papa per carità di dio ma c'è una concezione magica amici anche del papato contraddetta dalla storia contraddetta dalla storia cioè ci sono delle frasi che sono degli slogan che bisogna fare attenzione il papa lo ha eletto o lo ha scelto lo spirito santo io non so se qualcuno mi chiamerà a rispondere per eresia ma per quanto mi riguarda il papa lo scelgono i cardinali il collegio cardinalizio per cui se i membri del collegio cardinalizio fanno questa scelta sulla base di una profonda come dire orazione riflessione imparziale oggettiva è molto probabile che sceglieranno un papa secondo il cuore di dio ma purtroppo nel corso della storia della chiesa se uno la storia non è che meglio non è che è meglio non studiare è meglio studiarla per così uno si disillude di certe cose non tutti i conclavi sono andati così e allora questo non non significa cioè il papa è eletto è papa ma non è detto che come dire sarà proprio non tutti quanti i papi del corso della storia penso che tutti lo sanno sono stati canonizzati non tutti alcuni no alcuni a torto a ragione su alcuni sono stati fatti delle leggende nere sono passati diciamo per usare un eufemismo non come proprio esemplari questo ti mette in crisi no questo mette in crisi una concezione magica anche di questa cosa no il papa lo elegge lo spirito santo è chiaro che c'era chi chi era san vincenzo da dall'erene che dice alcuni papi il signore li dona altri li tollera e altri li infligge no per carità è vero che non si muove foglia che dio non voglia però attenzione a dire queste cose attenzione così come il papa è infallibile quando parla ex catedra lì è certamente assistito in maniera certa dallo spirito santo d'accordo è chiaro che lui ha una grazia di stato per il compito che svolge in cui se non pone ostacoli anche lui sarà aiutato assistito ordinariamente dallo spirito santo però capite non in modo magico cioè ci sono stati dei papi celebri nel corso della storia che è certo che hanno commesso delle cose che non dovevano essere commesse faccio una domanda se quei papi di cui per carità debbano fare il nome basta che uno studia la storia e li vedrà hanno commesso quelle cose ok quindi secondo il catechismo spicciolo se uno commette un peccato mortale perde la grazia santificante giusto allora se perdi la grazia santificante è possibile che nel tempo in cui non ce l'hai perché voi magari saranno confessati tu sei ispirato dallo spirito santo cerchiamo di di ragionare no se se Dio ce ne risparmi liberi e Dio non voglia un ministro di Dio Dio ce ne risparmi liberi e Dio non voglia però abbiamo sentito negli anni passati dei fatti brutti di cronaca strumentalizzati amplificati indebitamente sono d'accordo su tutto però alcuni sono reali giusto immaginate che un sacerdote va a celebrare la messa e fare l'omelia con una roba del genere sulla coscienza scusate ma quell'omelia sarà ispirata no però questo sacerdote è consacrato perché perché lo spirito santo questo questo santissimo spirito santo che molte volte viene chiamato in causa a sproposito garantisce ma per certe azioni ben specifiche di un sacerdote cioè le azioni sacramentali in senso stretto e basta il carisma peculiare proprio del papa al riguardo sancito dal concilio vaticano primo è l'infalibilità ma quando parla ex cattedra non significa che dovunque parli di qualunque cosa parli di qualunque cosa dica è infalibile cioè non è che se il papa sta a pranzo e dice ma questa pietanza è buona e quella è cattiva è un dogma di fede ma capite io sto esagerando ma nella mens di molti ci sono queste idee non lo so cioè presumibilmente vengono da una concezione come dire magica la grazia la grazia di dio i carismi di dio operano con noi cioè per esempio cioè è chiaro che un prete consacra ma deve avere l'intenzione di fare quello che fa la chiesa e deve comunque compiere questa operazione in maniera cosciente non è che un papa fa celebrare la messa da sonnambulo ok e se va da sonnambulo e da sonnambulo impone le mani consacra no che non consacra perché non c'è la sua partecipazione cosciente intelligente non ci sono magie ci sono effetti spirituali profondissimi ma che operano con un essere umano d'accordo con le disposizioni quantomeno e con la cooperazione di un essere umano questo deve essere chiaro questo qui perché quindi dice se nulla impedisce l'efficacia operativa del sacramento il battezzato acquisisce il vigore di una nuova virtù e comincia ad essere perfetto soldato di Cristo altrimenti l'unica cosa che produce il sacramento della cresima è come vedremo il carattere il sigillo ma quello non si comporterà da soldato di Cristo chiaro? perché ha impedito l'efficacia operativa del sacramento capito? per cui se un ragazzino fatta la cresima sparisce dalla circolazione e che ne so il giorno dopo lo si vede che si fa le canne che bestemmia come un turco e che va con le ragazzine non è che la cresima non ha funzionato ha impedito l'efficacia operativa del sacramento amici una buona formazione fondamentale anche per capite cioè se uno capisce queste cose dice ma padre ho sentito una predica orribile sentire di tutti quanti i colori cioè io non sono un grande esperto però non ci vuole la scienza infusa per capire che coloro è una lettera di tutti i colori è una cosa brutta è una cosa dolorosa però noi dobbiamo pensare che è una cosa possibile e siccome so che è una cosa possibile che avvenga questo non mi mette in crisi la fede ma se il prete ha detto queste cose allora io non credo più perché se le dice lui figuriamoci no non succede niente può succedere che le dica ah parliamo sempre del passato ah se un papo ha fatto una cosa di questo genere nella chiesa io non ci metto più piede perché 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 ma scusate ma che San Pietro non l'ha scusate non l'ha rinnegato nostro signore San Pietro quindi che significa l'ha rinnegato o no poi è diventato un grande santo ma l'ha rinnegato poi ha litigato con San Paolo cioè San Paolo ha litigato con lui e se era sbagliato San Pietro ha prevalso la linea di di San Paolo quindi quindi capite perché è importante la sana formazione perché se uno ha un po' di sana formazione alle spalle poi è in grado anche di reggere come dire delle botte che arrivano nella vita nella vita di fede d'accordo perché il diavolo ce le manda le botte ci tenta come dire ci spinge a lasciare la fede sotto questi pretesti speciosi falsi figli di una concezione del tutto sballata dell'azione della grazia e della dinamica sacramentale ecco se continuo così ci mettiamo dieci volte a fine del sacramento della confermazione però infatti ho detto salvo imprevisti mi sembrava molto importante battere un po' su queste cose sperando di aiutare insomma le anime nella crescita e nella comprensione numero 195 natura della cresima la chiesa cattolica riconobbe sempre nella confermazione la natura vera e proprio di un sacramento lo dichiarano apertamente il papa milchiade e parecchi altri pontefici di singolare antichità e santità san clemente specialmente non avrebbe potuto confermare la verità di questa dottrina con parole più esplicite san clemente è il quarto successore di san pietro lino cleto è il quarto papa il terzo successore di san pietro siamo alla fine del primo secolo a cavallo tra il primo e il secondo secolo dopo cristo parole più esplicite tutti ci devono affrettare per rinascere senza indugio a dio e per ricevere con il sigillo del vescovo la grazia settiforme dello spirito santo ne può essere assolutamente cristiano perfetto chi di proposito e non per necessità dimentica questo sacramento lo abbiamo imparato da san pietro e da tutti gli altri apostoli che ricevono il comando dal signore gli altri degli apostoli si legge avete ricevuto lo spirito santo noi non abbiamo neanche sentito parlare dello spirito santo gli impongono le mani e lo spirito santo scende tale dottrina corroborarono con la propria autorità come può ricavarsi dai loro decreti i pontefici romani urbano fabiano e eusebio che avvivati dal medesimo spirito diedero il sangue per gesù cristo pontefici e martiri possiamo aggiungere la concorda testimonianza dei santi padri tra cui segnaliamo dionigi l'aeropagita vescovo di atene che difende così la preparazione e l'uso del sacro unguento i sacerdoti ricoprono il battezzato con la veste appropriata alla sopurezza e lo conducano al vescovo il quale segnandolo con l'unguento sacro e pressoché divino lo chiama a far parte della santissima comunità eusebio di cesarea attribuisce notevole importanza a questo sacramento tanto da dire l'eretico nevato non poté conseguire lo spirito santo perché essendo stato battezzato durante una grave malattia non ricevette il sigillo del crisma altre esplicite dichiarazioni cogliamo in proposito da sant'ambrogio nel libro da lui consagrato agli iniziati e da sant'agostino nell'opera destinata a confutare le lettere del donatista petiliano l'uno e l'altro stimarono così superiore a qualsiasi dubbio la verità di questo sacramento da ritenerla confermata anche dalla sacra scrittura ritengono infatti che si devono attribuire alla confermazione il primo le parole dell'apostolo non vogliate contestare lo spirito santo di dio con il quale fosse segnati per il giorno della redenzione efesini 4 30 l'altro la frase del salmo collunguento sparso sul capo che scende sulla barba di ronne quindi questo sarebbe sant'agostino salmo 132 e la sentenza dell'apostolo la carità si è diffusa nei nostri cuori mediante lo spirito santo che ci è stato conferito ancora 196 la cresima è distinta dal battesimo sebbene papa Melchiade già citato dica che il battesimo è strettamente congiunto con la cresima non dobbiamo pensare che sia nel medesimo sacramento la diversità delle grazie che ciascuno di essi comunica i segni sensibili che le significano mostrano che si tratta di due sacramenti del tutto diversi e distinti la grazia del battesimo fa nascere gli uomini a nuova vita con il sacramento della confermazione i rinati divengono adulti eliminando tutto ciò che rivelava la puerizia la stessa distanza quindi che corre nella vita naturale fra la generazione e lo sviluppo corre pure fra il battesimo ricco di capacità rigenerativa e la cresima in virtù della quale i fedeli crescono e raggiungono la perfetta maturità dell'anima bellissima questa frase inoltre a ogni nuova difficoltà che l'anima incontra era conveniente fosse disposto un nuovo e distinto sacramento perciò mentre la grazia del battesimo ci occorre per infondere nell'anima la fede un'altra grazia deve corroborarla perché in modo che nessun pericolo o timore di pene di supplizio di morte l'allontani dalla professione della vera fede e poiché questo è appunto l'effetto del sacro crisma dovrà dirsi che la natura della cresima non è quella del battesimo e lo stesso Papa Melchiade delimita esattamente la differenza fra l'uno e l'altro scrivendo nel momento del battesimo l'uomo è arruolato nell'atto della cresima riceve le armi per la lotta bellissima bellissima questa frase al fonte battesimale lo spirito santo dà la pienezza dell'innocenza mentre con la cresima perfeziona la grazia perfeziona nella grazia con il battesimo rinasciamo alla vita cresimati siamo preparati alla lotta ci laviamo ci laviamo nel battesimo e dopo il battesimo ci robustiamo la rinascita salva per se stessa nella pace i battezzati la cresima arma e addestra al combattimento arma e addestra al combattimento quindi capiamo cos'è questo sacramento soldati di cristo combattenti per la fede tutti siamo combattenti per la fede in quanto cristiani cresimati poi vedremo che tipo di combattimento è e di cosa si tratta tutto ciò è stato definito dopo altri concili principalmente dal sacro concilio tridentino sicché non è più lecito ad alcuno dissentire o minimamente aver dubbi in proposito come numero 197 istituzione della cresima come sopra abbiamo mostrato di tutti i sacramenti è necessario insegnare l'istituzione quindi anche della confermazione perciò affinché i fedeli siano più profondamente colpiti dalla santità di questo sacramento i pastori spiegheranno che non solo nostro signore Gesù Cristo fu l'istitutore di questo sacramento ma secondo la testimonianza di San Fabiano pontefice di Roma impose anche il rito del crismo del crisma e le parole adoperate dalla chiesa nell'amministrarlo non troveranno difficile provarlo a coloro che ammettono il carattere sacramentale della cresima tutti i sacri misteri non superano forse la capacità della natura umana da nessuno dunque possono avere origine se non da Dio la materia della cresima quindi non abbiamo una testimonianza diretta nella sacra scrittura dell'istituzione di questo sacramento per la parte di nostro signore Gesù Cristo qui si spiega che abbiamo una testimonianza di un papa San Fabiano secondo cui Gesù Cristo stesso fu l'istitutore di questo sacramento Materia della cresima numero 198 occorre spiegare ancora gli elementi della cresima e in primo luogo la sua materia che si chiama crisma questa parola greca sebbene negli scritti profani significhi qualsiasi genere di unguento tuttavia dall'uso comune ecclesiastica fu circoscritta a indicare quello speciale unguento che il vescovo consacra solennemente mescolando olio e balsamo così due sostanze materiali accoppiate offrono la materia alla cresima tale mescolanza mentre la figura la molteplice grazia dello spirito santo esprime pure la dignità del sacramento la santa chiesa e i concili costantemente insegnarono che questa è la materia del sacramento san dionigi poi e con lui numerosi autorevolissimi padri tra cui primeggia san fabiano papa ancora citato confermano che gli apostoli ricevettero dal signore l'ordine di preparare il crisma e a noi ne tramandarono il precetto nessun'altra materia in verità poteva concebirsi più adatta a simboleggiare l'effetto del sacramento l'olio materia grassa e lentamente diffusiva esprime la pienezza della grazia che rifluisce da Gesù Cristo al nostro capo mediante lo spirito santo e si diffonde come lunguento che scende sulla barba di aronne fino all'orlo della sua veste infatti Dio ha versato l'olio della gioia sul proprio figlio più copiosamente che sugli altri e noi tutti traemmo beneficio dalla sua pienezza il balsamo poi dal profumo gradissimo vuole esprimere questo fatto che i fedeli tratti a perfezione dal sacramento della cresima emanano quell'effluvio odoroso di virtù che li autorizza a ripetere con l'apostolo noi siamo al cospetto di Dio il profumo di Gesù Cristo guarda che bello meraviglioso no? quindi l'olio è la grazia che rifluisce dal nostro capo che è Gesù Cristo mediante lo Spirito Santo sul suo corpo la barba mentre l'unguento è il profumo delle virtù il balsamo è il profumo delle virtù noi siamo il profumo di Gesù Cristo dice San Paolo seconda Corinzi 2.15 inoltre il balsamo ha la virtù di preservare dalla putrefazione che cosa dunque di più adatto per simboleggiare l'efficacia del nostro sacramento la grazia celeste del quale riempiendo le anime le difende dal contagio del peccato un cresimato aiuto dalla grazia di Dio se vuole non pecca volontariamente eh mortalmente ricordiamo le parole di San Giovanni Apostolo eh nel suo lettere chiunque è nato da Dio non pecca chi pecca non l'ha mai visto e conosciuto dobbiamo ricordarle queste cose ovviamente quando ricordo queste cose ribadisco perché magari chi sente questa catechesi non ha sentito tanti altri miei interventi scusate un attimo chiedo scusa chi chiunque è nato da Dio non pecca chi pecca non l'ha mai visto e conosciuto San Giovanni evidentemente a destrinersi in questo modo parla del peccato stritto senso cioè del peccato volontario che è quello il peccato di malizia sia che sia mortale quando cade su materia grave sia che sia veniale quando cade su materia lieve ma ci sono i peccati di malizia e i peccati di debolezza quindi quelli dovuti a difetti passioni non sufficientemente mortificate e dalla fragilità che esiste della nostra condizione umana di quelli io amo sempre citare a proposito l'offertorio della santa messa antica ma anche basta citare il confite or no confessa di onnipotente che ho molto peccato in pensieri parole opere d'omissione allora se con queste parole si facesse riferimento ai peccati mortali e basta allora ammessa la comunione non dovrebbe farla nessuno oppure quando si recita il confiteor si mentirebbe perché se io non ho fatto peccati mortali o volontari in senso forte non dovrei recitare il confito invece il confito lo dobbiamo recitare tutti i giorni così come l'atto di dolore perché perché sono innumerevoli innumeravili i nostri peccati le nostre offese e le nostre negligenze per chi c'ha i capelli dice la scrittura che le colpe sono più dei capelli del mio campo a quei tempi c'erano poi c'erano i super capelloni quindi non non guardate al sottoscritto mi raccomando quindi ce ne sono tantissimi quelli però non fanno ostacolo a questo che abbiamo letto perché dobbiamo combatterli dobbiamo cercare di togliersene il più possibili ma quelli sono già rimessi proprio dall'eucaristia non solo quelli non ostacolano di fare la comunione ma uno degli effetti della santa comunione lo vedremo ma è proprio rimettere le colpe quotidiane in cui cadiamo per debolezza per difetto il crisma viene consacrato dal vescovo con una liturgia solenne pavo fabiano ancora vedete terza volta che lo cita così illustre per santità e gloria di martiro riferisce che ciò fu insegnato dal nostro salvatore nell'ultima cena quando raccomandò agli apostoli la maniera di prepararlo del resto si può anche dimostrare che tale consacrazione è quanto mai ragionevole a proposito infatti di altri sacramenti Gesù Cristo designò la materia conferendo il potere santificante allora voglio aprire una piccola parentesi uno potrebbe obiettare ma questo nei Vangeli non c'è scritto oh allora nei Vangeli non c'è scritto tutto per chi le conosce per esempio proprio queste cose non proprio esatte ma sono scritte nelle ore della passione della serva di Dio Luisa Piccarreta dove spiega che nell'ultima cena dopo aver fatto la lavanda dei piedi e aver istituito l'Eucharistia Gesù istituisce gli Apostoli e istituisce tutti i sacramenti gli evangelisti hanno riportato il cuore di quello che Gesù ha fatto quella sera cioè l'istituzione dell'Eucharistia la Chiesa ha sempre insegnato che esistono delle tradizioni orali tramandate dagli Apostoli quindi gli argomenti utilizzati che dopo sono di matrice evidentemente protestante ah ma questo non c'è scritto nella Bibbia non contano assolutamente nulla perché ci sono delle cose che sono state tramandate in via orale e cose importanti capite e persone autorevoli che lo hanno attestato che lo hanno dichiarato a proposito di altri sacramenti Gesù Cristo designò la materia conferendo il potere santificante non solo volle per esempio che l'acqua fosse l'elemento del battesimo dicendo chi non rinascerà per acqua e spirito santo non può entrare nel regno dei cieli ma ricevendo gli stessi il battesimo fece sì che l'acqua fosse da allora in poi dotata di virtù santificatrice questa è una dottrina comunissima fin dai tempi della patristica il Crisostomo ben disse l'acqua battesimale non potrebbe cancellare i peccati dei credenti se non fosse stata santificata dal contatto del Signore addirittura ma poiché il Signore non consacrò la materia della cresima direttamente usandola di persona è necessario che sia consacrata mediante Pia e sante preci né tale consacrazione può aspettare ad altri fuori del Vescovo che è il ministro ordinario di questo sacramento chiudiamo per non appesantire troppo con la forma della cresima forma che abbiamo già detto che ha subito dei mutamenti specialmente adesso nel nuovo sordo dovrà poi essere spiegata la seconda parte del sacramento cioè la formula usata nella sacra unzione i fedeli devono essere eccitati esortati scusate eccitare l'animo loro mentre ricevono il sacramento soprattutto mentre sono pronunziate le parole di rito a sentimenti di vietà di fede di religione affinché nulla ostacoli sentite che bello il cammino radioso della grazia celeste questa quindi è la formula della cresima io ti segno con il segno della croce ti confermo con il crisma della salute e il nome del padre e il nome dello spirito santo amico oggi x il nome ricevi il sigillo dello spirito santo che ti è dato in dono la pace sia con te preceduta dalla invocazione dello spirito santo con le mani distese che il vescovo ha sui presenti il sigillo dello spirito santo del resto essa potrebbe essere comprovata con il sussidio della ragione la forma infatti di un sacramento deve contenere quanto è necessario spiegarne la natura e la sostanza ora nella cresima devono essere ponderati tre coefficienti la potenza divina che opera nel sacramento come causa principale l'energia del cuore e dello spirito instillata nei fedeli attraverso la sagonsione per raggiungere la salvezza infine il segno impresso su chi sta per affrontare l'agone cristiano il combattimento cristiano ebbene il primo è espresso dalle parole finali nel nome del padre del sud e dello spirito santo cioè la potenza divina il secondo dalle altre di conferma unichismo con la salute della salute e il terzo delle parole iniziali di segno con il segno della croce anche se questa dimostrazione razionale non fosse valida rimarrebbe sempre all'autorità della chiesa cattolica dal cui magisteri fumo sempre istruiti che questa è la vera assoluta forma del sacramento nessun dubbio è lecito in proposito bene ci fermiamo qui la prossima volta siamo più o meno a metà della trattazione e termineremo questo sacramento vedendo il ministro della cresima il padrino la sommo utilità della celebrazione e poi gli effetti della cresima ci vediamo se Dio vuole alla prossima puntata Dio vi benedica e la santa vergine vi protegga laurentur Jesus e la santa vergine e la santa vergine Grazie.